Il video è un po' di film Scopo! Ma che è successo? Ho visto un buffo brutto brutto senza capelli Ma dove siamo finiti? Guarda, c'è qualcosa che si muove laggiù Possiamo andare? Vedete cos'è? Chiedete a Pedro Non seguite, non seguite Ehi Giori, ti ammazzamolo! Chi sei? Sono il re della foresta E voi chi siete? Siete orgiunti per liberarci da tutti i nostri mali? Di cosa avete bisogno? Noi possiamo offrirvi tutto quanto Ma in cambio voi dovete fare qualcosa per noi Siete stati scelti per riportare a noi ciò che è nostro Gli altri cosiddetti messicani Per via del loro strano cappello Non fanno entrare nessuno che sia di loro gradimento E noi non lo siamo Però loro hanno un debole per i nostri maglialini Ed il nostro maglialino è stato sottratto Dobbiamo quindi recuperarlo Ci aiuterete? Va bene E allora il maglialino tornerà con noi Dobbiamo fare festa! I like to move it, move it I like to move it, move it Yeah I like to move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it Yeah I like to move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it Yeah I like to move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it maggiore Roger Rabbit e questa sarà la prima e ultima parola che vi sarà richiesto signore quando sentirete così signore capito? sì signore! ah per tutte le conigliette di playboy non vi sento rispondete come se l'aveste davvero sì signore se voi signorine finirete questo corso se sopravvirete all'attestamento siete pronti per la seconda ultima fase del combattimento ma per arrivarci voi dovete essere convinti di quello che facciamo voi diventerete dei soldati o delle signorine voi siete pronti a tutto fammi una faccia da guerra per forza o per piacere lui lo doveva fare allora poi alla fine è tutto come un gioco l'unica cosa è che è che si dorme poco ci trovi proprio tutti non tutti regolari tutti sono qualcosa tranne che militari e giorni tanto passano e diventa sempre vero il grigio si schierisce a fare l'arcobaleno quello che gli rimane è qualche amico regolare che insieme a lui l'avevano mandato militare e ora siete pronti per il vostro avatar entri nei caschi questi caschi vi permetteranno di entrare nel vostro avatar il vostro avatar è un modello evoluto che come il cavato di troia cambierà forma una volta raggiunto l'obiettivo questo è il maialino no io se sono due maialini hai ragione pedro portiamole assieme al altro va bene perro va bene perro 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 Ho un'idea Bravi Bravi Ma perché tutta questa importanza? Eh non lo so, ho chiedetelo a lui È un mangelino alla zucca Vai Eccoci qua Io sono l'estrangente maggiore Roger Rabbit E questa sarà la prima e ultima parola Che vi sarà richiesto Signore, quando sentirete così Signore, capito? Vai Ma che è il tuo gesto? Ho visto un come Vai Minch, ho corrito, ammazzamolo Mi falla Vai Minch, ammazzamolo Ah, è la prima Sì Alla Ciku Vai Come si vuoi dire? No, io ho sai Èste Sono 12 12 poi Madalire È questo Aspetta qui? Ciao Alimentaci Qua